Over 19, classe C, per forme completo, uomini. Numero di gara, 370, Giovanni Cennicola. Ehi! Mi hanno strafinato la lampada, mi sono venuti a svegliare, mi hanno portato fin qui e ora vorrebbero piantarmi in asso, ma io non credo proprio. Io sono un genio ed esaudisco desideri, quindi tutti seduti. Le uscite di emergenza sono qui, 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 dovunque. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Si parte! Non è mai 40, sono l'amprota, lì papà è rinco quando è. Qui c'è lo peccato, sai perché, non è magico, non c'è nessun solde. Hai detto l'acqua, forza e critica, e quando vuoi la voglia doverà. Sarà finiti tutti, come vai, se che sarà, ma la vorrà. Ehi! Mi hanno portato il museo, non c'è nessun cammino. Ehi! Mi hanno portato il museo, non c'è nessun cammino. Ehi! Mi hanno portato il museo, non c'è nessun cammino. che solo io sono il grande amico tuo, grande amico tuo, tuo tuo è il mio amico tuo, tuo amico tuo, amico tuo, amico tuo. Grazie a tutti.